Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Brawl Stars, anzi no, oggi andiamo a parlare di Clash Mini. Benvenuti su questo nuovo video di Clash Mini, ci troviamo su Brawl Stars per il semplice fatto che siamo nell'introduzione. Andiamo a vedere tutte le novità di questo gioco in quanto ci sono alcune chicche dal Discord ufficiale di Clash Mini nel quale c'è stata pure una talk tra il community manager di Clash Mini che si chiama Vlad e un'altra persona e altre persone del server nelle quali sono emerse alcune risposte. Inoltre vi faccio vedere alcune cose in anteprima, quindi se ci sono degli spoiler ragazzi vi avevo già avvisato all'inizio video. Spostiamoci subito sul Discord che vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Eccoci nel Discord ufficiale di Clash Mini. Come vi ho detto hanno appunto un server Discord diviso in varie sezioni, abbiamo la Rehuls nel quale semplicemente danno delle regole da utilizzare nella chat, da non usare un determinato tipo di parole. All'interno del FAQ ci sono alcune domande risposte molto molto semplici, con il fatto che spiegano perché il gioco non è ancora nell'App Store o nel Google Play Store in quanto il gioco non è ancora uscito e invece perché la Supercell lancia sempre la beta prima del gioco ufficiale e loro spiegano appunto perché deve verificare che tutto funzioni correttamente. Questo è quello che sostanzialmente spiega. Nell'annuncement non c'è niente di crema, il canale più importante è Sneak Peaks. All'interno degli Sneak Peaks ci sono vari spoiler del gioco. Innanzitutto c'è il canale Twitter che dopo andremo a vedere perché c'è una cosa molto molto interessante. Poi c'è Frame Supercell che in realtà sarebbe appunto Vlad, il quale sposta questi Sneak Peaks, ha postato lo Sneak Peaks di questa nuova truppa, lo Sneak Peaks di questi Maghi di Ghiaccio, lo Stregone, il Mini Wizard, molto molto interessante, il Mini Pekka, il Fishy Fishy, non c'è scritto il nome di questa, diciamo, ninja, però penso sia un Mini Ninja. Final 3D Mini Model reveals environments, video series are coming, we are working hard on all of them. Quindi hanno scritto che arriveranno dei video dove spiegheranno i vari ambienti, i vari 3D Mini Models e anche all'interno dei video, quindi arriveranno presto dei video che noi andiamo a fare la reaction. Quindi questa c'è un'altra, una skin, penso di un eroe, ci sposta tutte le varie cose molto molto interessanti, anche delle emoticon hanno iniziato a postare all'interno del canale e questa è la cosa che vi stavo appunto parlando l'altro giorno. C'è stato questo stage channel, questa live session incoming, nel quale hanno appunto parlato sia Vlad che Icy Tam, nel quale hanno appunto parlato in questo canale vocale di alcune cose molto molto coccolose che ci stanno veramente tanto. Inoltre sono state postate altre cose, l'ultima cosa che è stata postata è questo emoticon di questa signorina qua sul nostro Discord. Infine c'è la dissezione Discord Announcements, nel quale appunto c'è scritto semplicemente di non utilizzare troppo questo determinato comando. Nella chat generale si può chattare con gli altri player che stanno aspettando varie cose, in particolare si fanno delle ipotesi su quando possa essere rilasciata la beta, in generale questa cosa qui. Poi c'è la mini chat che ha in questo esatto momento è vuota e poi c'è l'off topic che non c'entra niente con il gioco dove ci sono delle cose dei meme abbastanza abbastanza strani. Ci spostiamo un attimo su Twitter che c'è una cosa importante da farvi vedere di Vlad che come vi ho detto ha messo un tweet oggi molto molto carino e coccoloso. Eccolo il profilo che vi dicevo di Vladislav Frame-Supercell che è il community manager che sta lavorando sia a Clash Heroes che a Clash Mini in questo esatto momento. E hanno diciamo postato questo Announcements video il famoso 2 aprile nel quale vi ho già parlato in uno scorso video passato. E questo è il tweet in questione, infatti scrivono Quindi riprese video parlando di Clash Mini, questo è molto divertente. Quindi diciamo che nascerà molto probabilmente questa serie di video di Clash Mini dove appunto si parlerà di vari update che arriveranno in futuro. Sono state postate anche inoltre altri personaggini come questo ed insomma praticamente le varie novità che sono state postate in generale dal team di Clash Mini. Questo è l'account Twitter ufficiale di Clash Mini che conta già 24.000 follower prima del lancio del game. La descrizione è È un gioco che sarà PvP quindi ragazzi questa cosa è molto propositiva in quanto essendo un gioco PvP potrebbe aiutare molto nel suo sviluppo e nel lancio magari poi effettivamente nel mondo del gameplay in generale e hanno inserito anche il mini scheletro gigante il varie diciamo sempre skin inerenti a personaggi presi dal Clash of Clans, Clash Royale e li hanno caricaturizzati e fatti diventare mini appunto perché questo gioco sarà basato su questi personaggi mini. Questa diciamo è la novità vera e propria. All'interno del gioco, all'interno del loro talk hanno parlato di varie cose come ad esempio il fatto che il gioco molto probabilmente arriverà in beta nei prossimi mesi possibilmente in estate stanno diciamo creando la sezione club in questo esatto momento quindi ci sarà anche una sezione club al lancio e una sezione amici ci sarà anche la possibilità di giocare in PvP e giocare anche 2 contro 2 e quindi queste cose ragazzi sono molto molto utili soprattutto per le live che verranno fatte sui vari canali di questo nuovo gioco ed insomma le domande principali sono queste e non si sa ancora nient'altro si sa che ci saranno gli eroi anche su questo gioco bisognerà capire bene che funzioni avranno alcuni dicono che addirittura potranno boostare le stesse truppe da quello che ho capito. Questo era quindi il gioco io spero che vi sia piaciuto ragazzi mi piace, condivisione, like, commento, tutto per supportare questo video lo so è stato un gioco ancora un attimo che deve essere lanciato vi farò sapere ragazzi in prossimi video se so qualcosa riguardo al lancio di questo gioco voi rimanete sintonizzati iscrivendovi e attivando la campanella noi ci vediamo in un prossimo video sempre qua sul canale ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.